Siamo alla serata più attesa di tutta Expo Brianza, speciale Expo Sport, con noi c'è Nunzio Battista, l'ideatore, creatore e presentatore, perché non ci presenti tu le due bellezze al tuo fianco che ti accompagneranno questa sera? Allora, Monique oramai è diventata una veterana in quanto è il nono anno che è con noi, mentre invece Deborah è la new entry, quindi è la prima di quest'anno. Allora, cosa dire, inizia un altro decennio, siamo alla ventunesima edizione, speriamo che per altri dieci anni possa continuare così. Io però inviterei poi anche il nostro cameraman, se dà un giro un po' al nostro pubblico che ci accompagna come tutte le volte. Ecco, grazie. Allora, io cedo la parola a Monique, così porta anche la parola di anche lei il suo saluto. Ciao, io da un po' di tempo che ci conosciamo, sono qui da circa dieci anni. Sono contenta, l'emozione è sempre la stessa, è sempre forte, è una serata importante e quest'anno vi ho portato anche la sorellina, adesso ve la faccio conoscere. Ciao, per me questo è il primo anno, sono un po' emozionata, però spero di non fare i casini. Ok, io allora direi che può finire così e cosa dire, in bocca al lupo a tutti. Ciao a tutti, buonasera, sono Luzio Battista, l'organizzatore di questa serata. Io veramente ne vedo tantissimi, grazie. Grazie per il vostro calore che dimostrate di avere in occasione di speciale Expo Sport. La prima autorità a salire sul palco è il presidente della 34esima Expo, Carlo Crippa. Ringrazio tutti i presenti questa sera perché questa è sempre una grande manifestazione. Grazie a tutti e buonasera. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti e buonasera. 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 Io ne approfitto per salutare tutti e non mi resta che darvi l'appuntamento all'anno prossimo. Grazie a tutti e buonasera.